Eh sì ragazzi, eh sì, 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 eh sì Parade, eh sì Parade, benvenuti, orca la puttana quanto pesa questa serie, vaffanculo, benvenuti nella serie più amata di YouTube Italia e meno amata da mi padre che fa il barbiere e quindi se la metto ogni volta ti vede e fa così perché dice che se no mi casca i capelli ragazzi e benvenuti, mi sono fatto il caffettino, mi sono fatto il caffettino, regà, 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 mille mi piace qui sotto adesso sull'Undia e oggi stesso vi porto un altro episodio del Seek Parade, che cos'è il Seek Parade? La serie nella quale andiamo a prendere 10 notizie di mercato più importanti del giorno e le andiamo chiaramente a valutare, andiamo a parlare che poi notizie di mercato, notizie del giorno, definiamole soprattutto notizie del giorno ragazzi miei, notizie del giorno e ce ne sono veramente tante, veramente veramente tante, abbiamo un sacco di carne al fuoco e noi le andiamo a valutare qui insieme, partendo dalla posizione numero 10, perché? Perché la posizione è più bassa, io oggi ragazzi sono incazzato nero perché, mettete un attimo la punta qua, regà, perché ho letto, ho letto una cosa che non mi è piaciuta per niente, ma la tratteremo, è nel titolo, ma la tratteremo ovviamente a tempo debito Posizione numero 10 per il primo acquisto ufficiale del Monza di quest'anno, infatti il Monza si sta già muovendo, come è normale e giusto che sia, lo conosciamo il Monza, il Monza ragazzi ormai lo conosciamo, lo conosciamo il Monza, non abbiamo più niente da dire riguardo al Monza Adesso farà un altro mercato, ha fatto il mercato da neopromosso e poi arrivare a metà classifica, c'è riuscita, e adesso farà il mercato e provare a prendere l'Europa, ci riuscirà? Non lo so, mi auguro di no, visto che la Roma punta, cioè arriva sempre sesta, quindi se c'è un'altra squadra che arriva sesta, per quanto mi riguarda è un macello Però al di là di questo parliamo di Aliseda, il primo colpo ufficiale, Ignacio Aliseda del Monza, secondo calciomercato.com è ufficialmente fatta, chi è questo Aliseda? Ve lo spiego io, è un classe 2000, giocava nel Lugano, gioca nel Lugano ma adesso trasferendosi al Monza diventerà un nuovo giocatore del Monza Ha fatto l'Under 23 con la nazionale argentina e soprattutto, soprattutto, il Lugano avrebbe detto sì al Monza, lui era contento di trasferirsi in Italia perché è una grande nuova possibilità Quindi adesso bisognerà capire solamente degli ultimi dettagli e poi andremo a vedere quello che potrà fare in Serie A Vi posso dire, io non lo conosco, però Galliani non credo che sia un coglione, quindi se l'hanno voluto è perché questo è veramente forte Il Milan in passato ha fatto colpi di questo tipo sconosciuti che però hanno reso tantissimo e quindi io da un giocatore di questo tipo, di questa caratura, mi aspetto sicuramente tanta qualità Poi, chiaramente, quest'anno il Monza ha avuto una rosa forte ma l'unico grande vero problema è stato davanti Perché tra Petagna, Caprari, Gitkier, Dani Mota, non si capiva chi segnava di meno Cioè, quindi nel senso, effettivamente una punta serve Ora, il dubbio qual è? Che se questo Aliseda dovesse essere un 6,5, quindi un buon giocatore ma niente di che, il Monza sarebbe da capo a 12 Forse sarebbe il caso di andare a prendere un attaccante forte, però ve la butto lì, magari lui è veramente forte, cioè noi non lo possiamo sapere in questo momento E quindi, alzo le mani e spazio ad Aliseda Alla posizione numero 9 si è parlato della Fiorentina e del futuro di Vincenzo Italiano Allora, in realtà oggi ha parlato anche il Presidente, ha parlato anche commisso e ha detto che rimarrà, che Vincenzo Italiano rimarrà Però ieri la Fiorentina ha perso una partita, la partita, la finale di Europa League, di Conference League, scusatemi, contro West Ham Probabilmente per un errore grossolano a livello tattico di Vincenzo Italiano, perché tu non puoi pensare al novantesimo di mettere la difesa a centrocampo Cioè far giocare la difesa a centrocampo, per quanto mi riguarda, è un suicidio in piena regola Cioè far giocare la difesa a centrocampo è un po' come dire, vieni qui, distruggimi, spaccami, che tanto perdo e mi va bene così Ecco, l'errore grosso, secondo me, è stato quello, quello di Vincenzo Italiano Però chiaramente il percorso della Fiorentina, secondo me, è stato assolutamente di valore e di qualità Cioè quindi non mi sento di mal giudicare il percorso fatto dalla squadra agiliata Detto questo, le parole di Vincenzo Italiano sono state Il Presidente è stato chiaro, come è successo l'anno scorso e succede a tanti altri allenatori Ci vedremo e parleremo del futuro, non c'è altro da aggiungere A fine stagione di siedi parli serenamente di tutto Ora, lui poi ha detto anche, lui poi, quando Vincenzo Italiano ha parlato Ha detto, ha detto, ha detto, io non ho nessun problema, rimarrei e oggi appunto con mi sono confermato Io penso che la Fiorentina possa ripartire da Vincenzo Italiano L'unico problema, e poi lo vedrete probabilmente oggi con il mercato che farei Dove andrò di fatto a trovare una Fiorentina in ottica futura Una Fiorentina in ottica futura, per quanto riguarda l'anno prossimo È che dovrà snellire la rosa, dovrà smantellare un po' di giocatori Dovrà cambiarli, dovrà andare a prendere magari qualcuno più forte Ma ci sono tanti calciatori di panchina che sono comunque di livello E una rosa di questo tipo per fare solo il campionato ha veramente poco senso Ripeto, se la Juve conferma Allegri Se l'italiano non è tra i candidati per andare al Napoli Allora, secondo me, è fondamentale che l'italiano rimanga alla Fiorentina Perché ha costruito qualcosa di importante, il primo anno ha preso il piazzamento in Europa Dopo tipo 6-7 anni che la Fiorentina non ci andava Il secondo anno è riuscito a prendere due finali Entrambe perse, ma due finali, una Coppa Italia e un'Europa League Una conferenza in Liga l'anno prossimo per me La Fiorentina con lui, con una squadra fatta bene Con un progetto messo bene in piedi Può, non dico tranquillamente, ma potrebbe provare a prendere l'Europa League E quindi credo che si debba andare avanti con Vincenzo Italiano Comunque tutto fa pensare che si andrà verso quella direzione lì Bevo un goccetto di caffè E alla posizione numero 8 troviamo la Salernitana Che, un po' come il Monza lo scorso anno ha fatto la squadra La Salernitana più o meno tiene la stessa lunghezza d'onda È una squadra che da quando è passata Iervolino Ha preso a spendere, ha preso ad investire soldi Ha l'obiettivo di arrivare comunque a centrare una salvezza tranquilla ogni anno E io credo che sia chiaro un pochino a tutti come l'obiettivo della Salernitana resti lo stesso Ora, prima di tutto la Salernitana, questa non è la notizia Deve riscattare Bulaiedia Riscatterà Bulaiedia E poi si capirà che cosa fare Perché probabilmente l'attaccante ex Villareal È destinato a non rimanere a Salerno Perché ha veramente tante squadre, tante tante squadre su di lui E quindi il club campano starebbe monitorando diverse piste Ecco la notizia del giorno Starebbe monitorando niente meno che Matteo Cancellieri Che però, attenzione Non facciamo l'errore appunto fatto magari dalla Lazio Che l'ha preso come vice immobile Matteo Cancellieri non è per nessuna ragione al mondo un attaccante Quindi non possiamo pensare che vada a sostituire Bulaiedia Che poi chiaramente anche Dia a Villareal in Spagna Non era un attaccante, una punta centrale Ma Cancellieri è proprio un ala Quindi lui ha giocato al Verona in passato Sa che vuol dire appunto giocare in una squadra Che di base si gioca la salvezza Ricordiamo che è nel giro della Nazionale Under 21 È un classe 2002 È un esterno molto forte fisicamente Ma quest'anno non ha giocato praticamente mai Cioè quindi per lui avere la possibilità di mettersi in mostra In una squadra di questo tipo Secondo me potrebbe essere davvero importante Quindi credo che tutto sommato La salernitana farebbe molto 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 bene a Cancellieri Detto ciò però Pongo all'attenzione vostra anche il fatto Che per me lui è un grande punto interrogativo Io Cancellieri lo vedo semplicemente come un grande punto interrogativo E niente più Cioè in questo momento non mi sembra Poi magari tra un anno ne parleremo e vi dirò Ci avevate ragione Ma ad oggi non mi sembra un giocatore Che possa in qualche modo spostare gli equilibri Anzi mi sembra un giocatore che magari si può inserire piano piano Magari lo può fare passo passo Però al momento non mi sembra quel giocatore lì E vedremo però Vedremo, valuteremo se effettivamente poi alla fine qualcosa succederà Passiamo alla posizione numero 7 Alla posizione numero 7 Arriviamo alla Juventus Sì la Juventus ragazzi La Juventus che sta cercando di fare qualcosa di davvero importante Ovvero muoversi sul mercato Senza dover necessariamente poi andare a prendere quei calciatori stratosferici Straordinari Ma puntando Ve la butto lì Piuttosto su calciatori che conoscono la Serie A E che possono dare una mano Che non costino tantissimo E infatti alla posizione numero 7 La Juventus avrebbe sorpassato il Monza e il Milan Per Mazzocchi Pare che abbia offerto una contropartita Di cui cercheremo di capire di più successivamente E una cifra economica che tutto sommato convincerebbe la Salernitana a cederlo Mazzocchi ricordiamolo è un classe 95 Ha già salutato tutti a Salerno Ha detto grazie mille grazie mille Nonostante il suo contratto scada tra tre anni Questo vuol dire che uno lui vuole cambiare squadra E due che la società probabilmente gli ha dato l'ok per cambiarla Perché altrimenti è impensabile no? È impensabile che saluti tutti Ok quindi probabilmente partirà Andrà via E poi pare proprio che non si sia trovato molto bene con Paolo Sousa Questo non fa altro appunto che rischiare di farlo partire Si era parlato di Monza Il Monza lo voleva prendere E questo per me era veramente il colpo alla Monza E io penso che lui avrebbe fatto un passo in avanti A giocare in una società comunque molto ambiziosa Certo è che se poi a bussare alla porta Sono Milan e Juventus Rispetto per il Monza Ma in questo momento tu sei costretto anche a dire Probabilmente di sì E allora perché la Juventus dovrebbe prendere Mazzocchi? Io vi dico come la penso io Cioè io credo che alla Juventus Mazzocchi possa davvero fare comodo Mancini, Roberto Mancini Nonostante lo critichiamo spesso per le scelte Non è scemo Sa benissimo comunque Se un calciatore può necessariamente diventare valido o non valido E Roberto Mancini di tanto in tanto Lo ha convocato Gli ha dato quella possibilità lì Ora chi è il calciatore che potrebbe andare alla Salernitana Per quindi essere inserito come controllata tecnica Per Mazzocchi Nicolussi Caviglia Nicolussi Caviglia in realtà Già lo scorso anno ha giocato sei mesi a Salerno E pensa la Juventus di poter offrire Nicolussi Caviglia Più circa 4 milioni di euro Per prendere Mazzocchi Ora discorso è molto semplice Mazzocchi vale di più Cioè per me Mazzocchi Che può Nicolussi Caviglia In questo momento non so dargli un valore Ma perché non ha dimostrato nulla Non ha dimostrato nulla E quindi non so dargli un valore Però so anche che 4 milioni di euro Più Nicolussi Caviglia Sono veramente pochi Cioè se io fossi De Santis Quindi direttore sportivo Della Salernitana Chiederei almeno una decina di milioni Per il cartellino di Mazzocchi Perché comunque ha fatto molto bene L'unico reale problema È che il calciatore campano Vuole andare via Ha già salutato tutti E quindi fai fatica anche a trattare Per un giocatore Che effettivamente se ne è già andato E alla posizione numero 6 Un'indiscrezione clamorosa Sapete no? Chiaramente lo sapete Che il Milan Ha cacciato Maldini E ha cacciato Massara Ora ieri si parlava Di un'indiscrezione Comunque clamorosa Ovvero si parlava del fatto Che pare che Jerry Cardinale Abbia scelto di cacciare Maldini e Massara Proprio perché Loro volevano cacciare Stefano Pioli Per arrivare ad Andrea Pirlo Ed aprire un nuovo ciclo Ora non sappiamo Se questa è la verità Cioè questa potrebbe essere la verità Come una grandissima stronzata Cioè È una possibilità Che va varata È una possibilità Che va valutata E questa cosa Non la sapremo mai A meno che Non sia proprio Maldini O Massara O un addetto ai lavori Del Milan interno A fare A dare delle lucidazioni In merito a questa faccenda Però una cosa La sappiamo E questa cosa Ci tengo a considerarla Ovvero che Pare Che il calciatore Intorno al quale Sarebbe dovuto ruotare Il calciomercato Estivo del Milan 2023-2024 Sarebbe stato Domenico Berardi Infatti Sembra che Maldini e Massara Avessero individuato Come titolare Alla destra Dei rossoneri Berardi Doveva andare appunto A prendere il posto Da titolare Che quest'anno Hanno conteso Selmequer E Messias Quindi lì Doveva andare Uno dei due Cioè doveva andare Lui al posto Di uno dei due L'altro L'aveva fatto panchina E uno dei due Probabilmente sarebbe Partito Perché vi dico questo Perché il giorno dopo Che Cardinale ha cacciato Maldini Era fissato l'incontro Tra Berardi Cioè tra gli agenti Di Berardi E appunto Maldini E quindi lì Si doveva arrivare All'accordo Che avrebbe portato Berardi In rosso nero Cioè Mimmo Berardi Era pronto Al grande salto Avrebbe deciso Di accettare Quest'offerta E pare che appunto Gli agenti Siano andati Su tutte le furie Perché praticamente Si era già parlato Prepotentemente Di questa cosa E sostanzialmente Sembrava solo Che mancasse L'ok definitivo Per chiudere Completamente La situazione Quindi veramente Discorso di poca roba Si sarebbero incontrati Avrebbero trovato L'accordo Avrebbero limato I dettagli E poi nei prossimi giorni Berardi sarebbe diventato Un giocatore del Milan Invece questa cosa Non è avvenuta Proprio per L'esonero Di Maldini E quindi Con l'addio di Maldini E la ricerca Del nuovo direttore sportivo Hanno evitato Completamente Di andare su Berardi Ci sarà un nuovo piano Mercato E gli agenti di Berardi Sono andati Su tutte le furie Chiede ai tifosi del Milan Avrebbe fatto piacere Avere Domenico Berardi Come alla destra Per la prossima stagione Questa cosa Vi fa infuriare Ancora di più Che Beh non male Fa dire Vabbè dai ci può stare E però Bisogna parlare Della posizione numero 5 Per quanto riguarda l'Inter Perché anche i nerazzurri Si starebbero muovendo Sul mercato Sì lo so Manca ancora Un po' di tempo Ci sono due giorni Per fare la finale di Champions Dopo la finale di Champions Si aprirà una grande parentesi Però chiaramente Al momento Andiamo a valutare Anche quello che abbiamo A disposizione E quindi l'Inter Mentre aspetta Di arrivare a giocare La finale di Champions Prima inizia a guardarsi intorno E il nome Al quale guarda È quello di Dodi Luque Bacchio Luque Bacchio Sarebbe la prima Idea ufficiale Del calcio a mercato Dell'Inter Chi è Luque Bacchio È un attaccante Belga Che gioca Nell'erta di Berlino Ma lascerà l'erta a Berlino Perché è retrocesso In Bundesliga È un classe 97 E l'Inter vorrebbe Rinforzarsi In attacco Ora io chiaramente Se devo andare Un po' in logica Credo Credo Che vada a prenderlo Per sostituire Correa Perché Lukaku secondo me Proveranno a riprenderlo E mentre Lautaro E Dzeko Credo che verranno confermati Luque Bacchio In realtà quest'anno Non ha fatto male Cioè nonostante L'erta a Berlino Sia retrocesso Da ultimo in classifica Ha fatto comunque 11 redi e 4 assist Cioè quindi Ha dimostrato di essere Un'ottima pedina Bisognerà capire Quali cifre Chiederà l'erta E a quali cifre Si potrà arrivare A prenderlo Considerando appunto Che i suoi gol Li fa Ma mettendo Nel carrozzone Sarebbero meglio Rispetto che Correa Cioè Correa Ha fatto veramente Una stagione pessima Credo che sia stato Forse la più grande Delusione Dell'Inter Di questa stagione Quindi è normale Che i nerazzurri Vadano A voler cambiare Un calciatore Come Correa Qualora arrivassi all'Inter Potrebbe comunque dare Una grossa mano E alla posizione Numero 4 Facciamo un saltello All'India Tra e torniamo Al discorso Di Berardi Perché visto Che sembra Essere saltato Berardi al Milan Pare che a Roma Si stia parlando Fortemente di Berardi In realtà La Lazio Avrebbe già raggiunto L'accordo Con il giocatore E il giocatore Avrebbe detto Sì Verrei molto volentieri Alla Lazio Se c'è possibilità Verrei volentieri E la Lazio Che l'anno prossimo Farà la Champions League Deve rinforzare la Rosa Anche perché Va bene Zaccagni Che è fortissimo Però Felipe Anderson È bravo Ma delle volte Dimostra di essere discontinua Mentre Pedro Ha una certa età Prendere un'altra ala E metterla A disposizione Di Maurizio Sarri Potrebbe veramente Essere la mossa vincente Per trovare Un'importante continuità E quindi Berardi ha detto Già di sì Alla Lazio E la Lazio Vorrebbe Berardi Deve però trattare Con il Sassuolo Che ultimamente Ha incontrato Anche Tiago Pinto Perché pure la Roma Sta trattando Per un giocatore Del Sassuolo Non è ovviamente Berardi Anche perché la Roma Con Berardi Con l'attacco a tre Con Murigno Non ci farebbe niente Bensì sarebbe Frattesi Ricordiamo che Frattesi Che poi in realtà Anche Frattesi Si ti fa Lazio Da quello che so Però ricordiamo Che Frattesi Vorrebbe un sacco Tornare a giocare Alla Roma Vorrebbe fare Il grande salto La Roma lo prenderebbe Perché è un centrocampista E è il centrocampista Ideale Per la Roma Da prendere Il centrocampista Che serve proprio Da prendere per la Roma Ed è un giocatore Che ti vale 30 35 milioni di euro Questo è il prezzo Del suo cartellino Ma la Roma Ha un tipo 30% Di Di incaso Sulla futura rivendita Cioè quindi La Roma praticamente Pagherebbe E gli ritornerebbero i soldi Quindi avrebbe uno sconto Davvero importante E piuttosto che andare a prendere Un centrocampista Che ti costa realmente 50 milioni di euro Potresti andare a prendere lui Che lo paghi 35 Ma poi alla fine Lo vai a pagare una ventina E secondo me Questa potrebbe essere Veramente la mossa giusta Azzeccata Per la Roma Ecco io vedrei benissimo Berardi alla Lazio E vedrei benissimo Frattesi alla Roma Posto però Che poi il Sassuolo Deve fare una scelta Perché se il Sassuolo Continua a vendere tutti Come ha già fatto Negli ultimi anni Perché ha fatto partire Raspatori Ha fatto partire Scamacca Ha fatto partire Traore Ha fatto partire Me ne manca un altro Scamacchi Giova uno Scamacca E Bogà Li ha fatti partire tutti Uno dopo l'altro Il Sassuolo Li ha fatti partire tutti Ecco se continua Con questo modus operandi È normale che Poi arrivi sempre Tredicesimo E non ti puoi andare A lamentare con Dionisi Se la squadra Non rende al top Come se fosse una top reale Perché una top reale Non la è E quindi semplicemente questo Saliamo sul podio E saliamo sul podio Con la posizione numero 3 Alla posizione numero 3 Troviamo De Laurentiis Che sta disperatamente Cercando un post spalletti E continua la sua ricerca Con 40 allenatori Ogni giorno raddoppiano Gli allenatori disponibili Ogni giorno diventano il doppio Rispetto al giorno prima Ma soprattutto Non c'è Vincenzo Italiano Queste sono delle parole Di De Laurentiis Non le ho dette io Le ho dette De Laurentiis Quindi se a voi non vi piacciono Piatevela con lui Fatto sta però Che adesso pare Che ci sia una suggestione nuova Allora Innanzitutto Sembra che Spalletti Voglia Se Spalletti Che De Laurentiis Voglia il 4-3-3 Quindi l'idea Sia quella del 4-3-3 Proprio per questa ragione Inizialmente si pensava A Luis Enrique Ma Luis Enrique Come abbiamo già Ampiamente Sottolineato Preferirebbe la Premier League E starebbe aspettando Un'offerta Dal campionato inglese C'è la fila Per il Napoli Così dice De Laurentiis E sembra che Le quotazioni Di Rafa Benitez Siano state distrutte Crollate E tutte quante E tutto quanto Così come quelle Di Antonio Conte O di Gonseisau Questi erano i nomi primari Che giravano in orbita Napoli Così come Vincenzo Italiano Che in realtà Per quanto riguarda Il gioco che vorrebbe De Laurentiis Il profilo che vorrebbe De Laurentiis Sarebbe l'ideale Però comunque Pare che De Laurentiis L'abbia smentito E quindi mettiamo da parte Anche lui Allora Si parla di De Zerbi De Zerbi Intriga tanto Però è difficile Pensare che De Zerbi Lasci il Brighton Dopo essere arrivato In Europa League Io credo Che De Zerbi Si giocherà le sue carte Con il Brighton E successivamente Dipenderà da quello Poi che succederà Magari andrà In un grande club Di Premier League Io penso che lui sia tipo Cioè nella mia Testa Poi vabbè Adesso c'è andato Xavi al Barcelona Però nella mia testa C'era Arteta all'Arsenal E De Zerbi Cioè Arteta al Barcelona E De Zerbi all'Arsenal Però adesso è un po' più difficile Comunque la penso così E pare che Tra tutti i vari allenatori Ci sia una possibilità Una suggestione Che potrebbe essere Intrigante Ovvero Rudy Garzia Che ha allenato a Roma Tempo fa Che ha fatto anche Discretamente bene a Roma Ha preso dei secondi posti Diversi secondi posti Non ha mai vinto un trofeo Ma è arrivato sempre Molto in alto Che Ha come diktati Il 4-3-3 Lui chiede Un 4-3-3 Con una linea di difesa E una linea di attacco Alta Non è altro modulo Rispetto che il 4-3-3 Sta facendo i casting Praticamente Quindi vuole questo E probabilmente Rudy Garzia Sarebbe il nome ideale Io vi dico La mia Nonostante io Ho amato a Roma Garzia E quando l'abbiamo salutato Io sono stato il primo In primis Io ho detto Vabbè ragazzi Se dovesse andar via Grazie Adesso è arrivato il momento Di andar via Perché c'è arrivato un momento Un punto di rottura Però Non l'ho mai odiato Rudy Garzia Non l'ho mai odiato Però credo che non sia adatto Per il Napoli Cioè soprattutto Non tanto per il sistema di gioco E tutto quanto Ma se il Napoli Vuole realmente Costruire qualcosa Di intelligente Non può essere adatto Per il Napoli Perché il Napoli Adesso è arrivato Ad un punto di Salgo 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 E non mi abbasso mai Ecco Se da qui si parte Se così si parte Il Napoli Adesso deve andare a prendere Un allenatore Come Nagelsmann Come Pochettino Come Luis Enrique Cioè allenatori Come Antonio Conti Allenatori che ti fanno Rimanere comunque Nell'elite Del calcio È vero anche che Quando hanno provato A rimanere nell'elite Del calcio Adesso ad andarci Hanno preso Ancelotti E è andata malissimo Adesso Ancelotti Allena il Real E vince Champions Su Champions A ricezione di quest'anno E invece il Napoli Poi si è dovuto ricostruire Con Spalletti E Spalletti non era Un top dei top Però una volta Ci sei arrivato Secondo me Ripartire Da Rudy Garzia Sarebbe davvero Una mossa Poco intelligente Alla posizione numero 2 Troviamo la Roma Che lidica con il Milan Perché? Perché era praticamente Fatta per Dica Cioè la Roma Ha già raggiunto Un accordo di massima E praticamente Stava limando Gli ultimi Gli ultimi dettagli Cioè manca solo La firma sul contratto Le visite mediche Firmerà un quinquennale Il calciatore Lo amo Ne parleremo in un video Impazzisco Firmerà un quinquennale Con la Roma Ora Qual è il problema? Il problema Di base Il problema proprio Alla base Della situazione Però È che il Milan Si sarebbe inserito E starebbe provando Un blitz finale Disperato Per portarselo a casa Ora Vi posso dire la verità Mi risulta difficile Da credere Perché Allora se fosse stata L'Inter Vi avrei detto sì Perché comunque L'Inter dietro C'ha Cerbi Che ha 35 anni De Frey Che ha 32 anni Darminian Che ha 35 anni D'Ambrosio Che se ne va Skriner Che se ne va Avrei detto sì L'avesse fatto La Lazio Avrei detto Ci sta L'avesse fatto Ma anche il Napoli Che ha due centrali contati Avrei detto sì Ragazzi Ma il Milan Confermerà ciao A Kalulu A Tomori C'ha tre titolarissimi In più C'ha l'esperienza di Kier Cioè avere un giocatore in più Come indica Che comunque è fortissimo Però è pronto È pronto per fare il titolare Chi panchini Tomori Chi panchini Ciao Chi panchini Chi panchini Kalulu Perché poi li devi panchinare Perché non puoi Mettere uno come indica In panchina Che a me risulta difficile Da credere Certo chiaramente lui Se avesse la possibilità Di giocare titolare O a Roma O a Milano Andrebbe tutta la vita A Milano Credo io Perché lì fai la Champions C'hai ambizioni migliori I sogni di vincerlo Scudetto A Roma sì Magari se è allenato Da Murigno Ti può intrigare Però per il resto È veramente Poca poca carne al fuoco La stagione della Roma Per rendica Però se poi devi Ci dire Fra fare il titolare A Roma Allenato da Murigno E fare il panchinaro A Milano Secondo me Preferirebbe magari Fare il titolare Perché al momento Attuale Ha lasciato l'eintracht Di Francoforte Nella sua carriera Ha comunque Sicuramente bisogno Di giocare E se il Milan Dovesse andare a prenderlo Secondo me Causerebbe un danno Un problema Ai calciatori Che ha già in rosa E alla posizione Numero uno Io regano No parole Poi dici che uno Si incazza A me queste Mi fanno incazzare Da morire Allora Ken Faremo un video Dedicato tra l'altro Nel quale Andremo a Commentare i convocati Dell'Europeo Under 21 Nicolato Ha fatto i suoi convocati E ha convocato Ken Ken si è presentato Lo staff tecnico di Ken Anzi Ken si è presentato Allo staff tecnico Della nazionale E gli ha detto Guardate Io voglio lasciare Il ritiro dell'Under 21 E voi direte Sei infortunato Si è fatto male Sei rotto No Semplicemente ha detto Personalmente Dopo tutti questi Insomma Dopo questa convocazione Non mi attira Giocarmi l'Europeo Under 21 Ora io non voglio Essere cattivo No Io non voglio Essere cattivo Però questa è una cosa Che secondo me Ti esclude anche Dalla nazionale maggiore Ken non è Da nazionale maggiore Mi dispiace Ma io prima di Convocare Ken Ne convoco 47 Convoco anche Luca Campolunghi Prima di convocare Ken In nazionale maggiore Ok Quindi dovresti essere grato Di essere inserito In un gruppo In cui Tonali Tonali Che è uno dei migliori Centrocampisti d'Europa A mio avviso A mio avviso Il mio punto di vista Va a fare l'Europeo Under 21 E sta zitto Cioè quindi se Ken Si lamenta Perché non lo attira Abbastanza Prima può stare a casa Come potrà stare a casa Anche quando ci sarà L'Europeo dei grandi Perché non lo attirerà Abbastanza Quali lo attireva Ma sarà Ken In quel caso Non attirare più a me Io personalmente La penso La penso così Cioè Sì sei stato sincero Bene Ok Grazie Ma Me ne frega il giusto Personalmente Me ne frega il giusto Cosa pensava Ken Con le sue Quattro reti stagionali Con le sue dieci presenze Stagionali Di essere convocato Tra i grandi Per la Nations League Cioè io Cioè in una nazionale Di cui rimane a casa Zaccagni Rimane a casa Questo il Sharawi Rimane a casa Orsolini Pensava Ken Di essere convocato Perché io Non lo comprendo Vedo che al posto di Ken Verrà Pietro Pellegri Pellegri Quest'anno è stato più rotto Che in piedi Ha fatto due partite Due gol in tutto l'anno Vediamo Tanto ci abbiamo quello Poi ne parleremo Vi ripeto in un video dedicato Però questa reazione di Ken Questa decisione di Ken Non solo mi ha spiazzato Ma la reputo anche Poco sensata La reputo anche Di giocatore A cui manca l'esperienza Perché se avesse Realmente l'esperienza Non farebbe Una cosa del genere E anzi Si impegnerebbe Molto di più Per guadagnarsi La nazionale maggiore Per me Questa è una cosa Che mi fa incazzare Da morire Una cosa che mi fa infuriare Mamma mia regà Dai Dai Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio Tantissimi mi piace Buocela dall'alene come sempre Ci vediamo al prossimo video